Migliaia di corpi nudi spogliati da attributi sociali e da stereotipi culturali, restituiti alla loro naturale bellezza, posizionati in ambienti naturali in un gioco di forme che interagisce con lo spazio. Si può sintetizzare così la procedura che ha portato negli anni Spencer Tunick, fotografo statunitense di fama mondiale, a raccogliere una galleria di installazioni che per la prima volta in una forma antologica dal titolo nude verrà inaugurata a Palermo per l'anno della Capitale della Cultura. La mostra è stata allestita allo ZAC, il padiglione dedicato all'arte contemporanea nei cantieri culturali della Zisa, dove resterà fino al 2 giugno. Da Shanghai a Parigi, dall'Australia a Brooklyn, tappe in giro per il mondo tra cui 14, quelle selezionate e stampate in tele di grande formato, 3 metri per lato, volutamente così grandi, per offrire ai visitatori una sensazione di completa immersione negli scatti. In mostra anche 54 altre immagini di formato più ridotto. Compongono l'antologica anche i video che raccontano il lavoro dietro le quinte, che conduce alla realizzazione di ogni immagine. La mostra, curata da Gerald Matt, è un progetto sostenuto dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, dalla Galleria d'Arte Moderna, l'Organizzazione e dell'Accademia degli Offuscati. Possiamo dire che il corpo è già di per sé un'opera d'arte e nelle diversità di ogni corpo un po' c'è la collettività dell'opera d'arte, un po' di essere esseri umani? Sì, il corpo è un'opera d'arte e diventa poi però come un colore che lui utilizza per fare tutti i suoi grandi opere. Gerald Matt è il curatore della prima antologica di Tunic qui a Palermo. Sì, ho lavorato qualche volta con Spencer. Quando sono stato direttore di Kunstale di Vienna siamo stati i primi che hanno fatto un progetto istituzionale. Perché proprio Palermo? Non solo per l'anno della Capitale, no? Anche perché penso che Spencer e il suo lavoro ha questo momento di combinare tradizione e innovazione. Tradizione perché lui lavora con questa idea del nudo, il genere del nudo che è un momento molto importante nella storia d'arte. Ci sono queste relazioni anche con gli anni 60 ma anche con la dimensione politica, sociale del corpo. Adesso il momento di innovazione è che lui ha creato una scultura vive, questa combinazione della natura, spazio pubblico e il corpo in un'altra dimensione. a Mexico City lui ha lavorato con 10.000 persone in spazio pubblico e un tableau vivant.